uh bentornati dottore e dottoresse mamma mia che freddo sembra di essere in lappogna e invece siamo solamente nella pianura padana ma questo è il nord italia ce ne faremo una ragione come state ci si avvicina il natale siamo tutti più buoni fatemi sapere come state qua nei commenti sono curioso a famiglia a casa tutto bene ecco visto che stiamo in questo tema natalizio e che io mi stavo facendo due addobbi di natali grossi così a rispondere sempre le stesse domande questo video cade a fagiolo per tutte quelle persone che giustamente stanno entrando nel mercato soprattutto delle criptovalute in modo un po più ampio degli investimenti e quindi mi fanno sempre le stesse domande alle quali io rispondo molto volentieri però ho detto perché non fare un video dove signori e signori andiamo a rispondere a queste domande in maniera definitiva una volta per tutte così quando ci devo poi rispondere all'amico di turno che mi chiede marco ma cosa mi consigli di cosa mi consigli per io gli linko questo video e voilà problema risolto tra l'altro queste domande poi le troverete anche sul mio canale telegram che vi vado a far vedere qua in sovrimpressione e ve lo faccio vedere non perché ci tengo tanto a farvelo vedere ma perché mi chiedono sempre marco ma quanti canali telegram mai perché io sono finito in uno che mi chiede di investire diecimila euro non sono io porca di una miseria è facile il mio è questo marco costanza telegram siamo 4565 cristiani al momento non vi propongo investimenti quello che si chiama marco costanza telegram ufficiale non è quello ufficiale è uno scam ok ecco visto che c'è gente che veramente da diecimila euro su telegram ad uno sconosciuto io ancora queste cose non me ne capacito trovate queste domande risposte in maniera scritta anche su telegram quindi andate qua utilizzate la funzione cerca scrivete coin consigliate tipo pum e vi uscirà il mio q&a dove rispondo a questa domanda quindi oggi lo facciamo invece qua su youtube io ringrazio in anticipo tutte le persone che sosterranno questo video con un banalissimo mi piace e se invece siete nuovi anche con una bella iscrizione per non perdervi altri contenuti come questo e io direi che possiamo subito cominciare qua sotto nella barra di youtube troverete le sezioni con le domande quindi in base a quello che ti interessa vai lì pigi clicchi e ti leggi subito la domanda che ti interessa dunque senza perdersi in ulteriori chiacchiere che già il tempo è tiranno il tempo stringe bisogna andare di fretta allora prima domanda numero uno cosa mi consigli di comprare se potessi fare un atto impuro ogni volta che dicevo questa domanda lo farei allora io non so chi sei la tua situazione familiare la tua situazione economica la tua situazione finanziaria tua della tua famiglia la tua situazione lavorativa la tua predisposizione al rischio le tue spese i tuoi obiettivi non so niente di te c'ho un nome un cognome e un messaggio su un social come posso mai consigliarti di comprare qualcosa tolto il fatto che non posso farlo non sono un consulente finanziario anche il consulente finanziario deve prima riempire una pila di scartoffie infinita ma tolto il fatto che non ti posso consigliare ma anche potessi che cosa mai riuscirei a consigliarti sulla base di un messaggio ciao marco cosa mi consigli di comprare niente ma la risposta non è una risposta un po da para a fondo schiena per dire non ti dico nulla così non mi espongo e sarebbe totalmente sbagliato consigliarti qualcosa perché ripeto non conoscendo nulla della tua situazione personale e non posso sapere qual è l'asset che più si addice su di te ma soprattutto sei tu che devi capire qual è l'asset che fitta diciamo nei tuoi obiettivi hai un orizzonte temporale di lungo periodo di breve periodo sei disposto a rischiare tanto hai comunque delle entrate che ti permettono di rischiare un po di più ma non aver problemi stai rischiando i tuoi risparmi o stai rischiando dei soldi che hai trovato per terra vinta supernalotto cioè cambia totalmente tanto la risposta più sincera e veritiera che magari a qualcuno dà fastidio ma è questa la risposta migliore che si possa dare in questo caso è che se mi fai una domanda del genere hai bisogno di studiare di più e riapprofondire il settore degli investimenti perché chi chiede a qualcun altro cosa comprare significa che non ha capito ancora niente degli investimenti ma non è un problema va benissimo tutti si parte da zero basta esserne consapevoli se chiedete o vi viene anche solo in mente di chiedere a qualcuno che cosa mi consigli di comprare sappiate che dovete mettere da parte quest'ipotesi di comprare qualcosa ristudiare il settore riavvicinarsi un po a quello che è il settore degli investimenti della finanza personale di come gestire il proprio patrimonio i propri soldi e allora poi quando capirete che questa domanda non ha senso allora sarete pronti per effettivamente fare degli acquisti ok prima domanda abbiamo risposto tanto so che la riceverò lo stesso però almeno adesso sapete qual è la risposta definitiva si investe per obiettivi non per cosa mi consigli non esiste domanda numero due mi consigli di vendere poi ricomprare soprattutto in questo periodo adesso siamo un po in bull market dove tante persone stanno anche guadagnando dei soldini perché tanto basta comprare qualsiasi cosa a caso che tutto sale e allora è pieno di gente che ha marco mi hai salito tanto ma devo vendere ma cosa faccio ma non mi converrebbe vendere adesso perché poi la gente inizia tutto sta squillando tutto sta suonando allora perché poi le persone iniziano a dire è guarda io sono un po un professionista degli investimenti so che devo vendere in alto così poi il prezzo scende io ricompro ecco non funziona proprio così perché il fatto che tu dica adesso siamo in alto vendo così poi il prezzo scende io ricompro significa che tu sappia prevedere in maniera iper precise puntuale esattamente tutti i movimenti di mercato ma questa cosa non è vera non succede così cioè nessuno può prevedere i mercati con questa precisione adesso io sto vendendo al massimo quindi poi riscende ricompro al minimo e faccio un sacco di soldi perché c'è il pericolo molto molto grande che tu in realtà venda e il mercato continua a salire e allora uno può dire allora non vendo mai e se però non vendi mai c'è il rischio che poi il mercato torna giù e tu a quel punto ti sei perso tutto quel potenziale profitto che non hai portato a casa cosa fare dunque ci sono un po di strategie la prima un pochino più complessa la spiego molto molto bene in questa live allora tra l'altro ho perduto i cani di tube ma andiamo a vederla qua live quando sarà ora di vendere in questa live spiego le strategie soprattutto che utilizzano i sistemi con contratti derivati quindi non solo sul mercato spot di nuovo se non sai quello di cui sto parlando perché devi studiare di più e non ti serve arrivare a questo livello ma di base io posso cercare di proteggermi dal da quando il prezzo torna indietro senza vendere i miei asset quindi fare delle strategie un po più attive per riuscire a non rimanere col cerino in mano di base di base ti direi questo quando vedi che il prezzo inizia ad essere molto esteso e ragazzi adesso non c'è una regola scritta per dire quando il prezzo è esteso però viene da sé che se io c'ho davanti un grafico del genere che per due anni e mezzo non si è mosso e poi in due settimane mi fa cos'è qua sarà tipo un quasi 400 per cento 300 300 per cento viene da sé che non è sostenibile e quindi in questi casi qua inizierò a tenere in considerazione l'ipotesi di vendere e cosa farò molto semplicemente farò questa cosa qui dirò ho il prezzo qua bene mi disegno due livelli quindi mi immagino due livelli anche nella mia testa uno sopra ed uno sotto al prezzo attuale dove se il prezzo continua a salire dico basta adesso vendo qua è troppo chiudo la mia posizione vendo se il prezzo inizia a scendere dico basta prima che scenda troppo io vendo e chiudo tutto se il prezzo rimane all'interno di questa zona qua non faccio niente questa molto banalmente una strategia pensata e costruita nel giro di 5 secondi che però già crea una differenza immensa tra le persone che operano in maniera seria e chi invece così fa un po il trader della domenica e dice adesso compro sui massimi poi vendo sui minimi perché non si può fare quell'operatività non esiste comprare sui minimi vendere sui massimi ogni volta può andarci qualche volta di fortuna ma in genere noi non sappiamo quando sono massimi minimi quindi se mi chiedete cosa faccio è meglio che vendo per i compro la mia risposta creati una strategia che ti dia dei livelli di prezzo ben chiari e definiti dove vendere e dove ricomprare se non si toccano quei livelli non fai niente se toccano quei livelli allora metti in pratica la tua strategia sappi che ogni volta che fai market timing quindi cerchi di prendere il momento migliore di mercato ti esponi al rischio di sbagliare ok ok passiamo alla prossima domanda è pericoloso detenere le criptovalute sugli exchange su questa cosa mi sono espresso una marea di volte e ragazzi sì è pericoloso e sottolineerei anche molto pericoloso nei limiti del sensato ora è un pericolo se io tengo per due giorni le criptovalute sull'exchange probabilmente no è difficile che nel giro di poco tempo capiti il misfatto o meglio a livello probabilistico il fatto che io detenga le criptovalute proprio il giorno prima che l'exchange fallisca sono basse però la storia delle criptovalute di bitcoin è costellata ne succede ma penso minimo uno all'anno di exchange che fallisce chiude i conti ai propri utenti viene chiarato gli succede qualcosa di brutto e l'utente non vede più i propri fondi se siete nel settore delle criptovalute e soprattutto vi esce così dalla bocca di dire che siete qua perché rivoluzioneranno nel mondo cambieranno le cose e poi non conoscete nemmeno la differenza di self custody autocustodia rispetto a detenere le cripto su un exchange di nuovo tornate indietro e studiate ma non lo dico un cattiveria lo dico perché ancora dovete capire come funziona questo mondo le criptovalute che seguono un po il filone di tutto quello che è bitcoin e della sua filosofia nascono per detenere per dare a noi il possesso del nostro valore dei nostri asset se tu le lasci sull'exchange non sono tue non le hai tu le ha l'exchange che ti fa il favore di farteli utilizzare ma non sono tue quindi tu puoi utilizzare l'exchange per comprare per scambiare soprattutto lo vedremo meglio anche dopo se fai della speculazione allora devi utilizzare gli exchange perché sono la cosa più comoda in assoluto per fare speculazione ma ora capiremo come mai non dobbiamo detenere le cripto per fare speculazione adesso ci arriviamo ma tolto quel panorama lì se io devo solamente detenere le cripto perché le voglio acquistare per il lungo periodo cioè per mesi o anni le devo sempre prelevare e portare fuori quindi è pericoloso si detenere sull'exchange perché ripeto non è che è una cosa che uno dice vabbè è fallito un exchange potrebbe ricapitare un mio dio chi lo sa no fallisce un exchange almeno ogni anno ftx the rock trading mt gox quadriga cioè veramente la storia è costellata di exchange che hanno portato via milioni slash miliardi dalle tasche degli investitori e quindi non detenete le cripto sugli exchange l'exchange serve solo ed esclusivamente per fare operatività di breve periodo ora nella domanda eccola qua nella domanda successiva tanti mi chiedono ma quindi quali sono i migliori exchange per operare quali mi consigli e questa domanda diciamo contiene all'interno la risposta alla domanda precedente perché ho scritto quali exchange mi consigli per operare sia chiaro non per detenere le criptovalute quello lo vedremo dopo quali sono i migliori modi per detenerle per ora sappiate che non vanno lasciate sugli exchange detto questo io le potrei lasciare per due motivazioni la prima perché voglio metterle in earn il cosiddetto staking che tante volte vi viene venduto come staking ma non è staking è semplicemente un lasciarle sull'exchange per dare liquidità e quindi guadagnare un interesse che però lasciatemi dire quell'interesse non è che ve lo danno gratis perché siete belli ah guarda mi lascia degli tirum sull'exchange e gli do il 2% perché così lo premio che brava persona ovviamente vi state esponendo al rischio di quello che quell'exchange ci fa con quelle cripto con cui vi pagano gli interessi quindi prendere il 5 6 7 per cento annuo sulle cripto detenute sull'exchange vuol dire che voi per quel 5 6 7 per cento annuo state rischiando di detenere le cripto su un exchange che nel giro di un anno potrebbe benissimo chiudere fallire da un momento all'altro quindi il gioco vale la candela secondo me no ed ecco perché io non ho mai avuto problemi con qualsiasi fallimento di qualsiasi exchange qualsiasi cosa non ho mai avuto problemi perché ragazzi se voi non avete niente sugli exchange questi possono chiudere e voi dormite comunque sonni tranquilli ci sono invece persone che per guadagnare 40 euro l'anno ne hanno persi migliaia perché l'exchange ha chiuso quindi non vuole essere una politica del terrore ma cercate di capire quali sono i pericoli di detenere sull'exchange detto questo che può essere un motivo del perché voglio lasciare sull'exchange l'altro invece è sensato cioè fare dell'operatività spiego sempre e lo sottolineo di nuovo qua come dicevo prima nella domanda di quando vendere che ci sono dei contratti derivati che noi possiamo utilizzare nel settore delle crypto per operare in maniera più intelligente questi contratti derivati i cosiddetti futures perpetual se non sai cosa sono indovina cosa bisogna fare mettersi a guardare altri video e studiare ma risponderemo all'ultima domanda su dove fare queste cose questi contratti qui allora può aver senso che io lasci le crypto sull'exchange perché voglio fare dell'operatività sarebbe meglio ogni volta che non ho delle operazioni prelevare i fondi e portarmi a casa ma visto che posso capire risulterebbe molto scomodo che cos'è allora la miglior cosa da fare per operare sugli exchange mettiamo caso che io abbia 10.000 euro in criptovalute dico un numero a caso di questi 10.000 euro 9.000 me li tengo io nel mio hardware wallet dopo risponderemo alla domanda quali sono i migliori gli altri mille li lascio sugli exchange così io so che ho 10.000 dollari per operare ma sull'exchange ce ne ho solo mille banalmente utilizzerò più leva finanziaria per sfruttare quei mille come se fossero i miei 10.000 ma se mai succedesse qualcosa all'exchange io perdo solo ed esclusivamente i mille gli altri 9.000 sono a casa con me quindi sfruttate la leva finanziaria non per fare delle operazioni da un con un conto da 10.000 come se fosse da un milione ma utilizzatele per tenere una parte minima della vostra liquidità sull'exchange a rischio e poi poter operare come se in realtà aveste il capitale tutto investito a questo punto quali sono i migliori exchange questa risposta è ovviamente dipende al momento io sto registrando questo video il primo gennaio 2024 le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro i migliori exchange sono by bit bit get e bing x mi sento di dirvi perché sono quelli che hanno più volumi che hanno più utenza che hanno la famosa proof of reserve insomma che hanno un po di garanzie di utenza che li rendono i più affidabili al momento questo vuol dire che non potranno mai fallire no assolutissimamente marco ma perché non hai citato binance perché non hai citato kraken perché non hai citato altri exchange perché quegli exchange non hanno i contratti derivati non hanno la possibilità per noi pubblico italiano di utilizzare i futures e visto che per me l'unica cosa sensata dell'utilizzare un exchange e speculare tramite contratti derivati l'exchange che non ce li ha per me diventa un exchange inutile sul quale non c'ho niente da farci sopra quindi ad oggi questi qua sono i tre che preferisco ovviamente qua sotto io vi lascio i link con il codice di affiliazione per questi exchange con il quale io guadagno comunque se voi passate dal mio link ma voi stessi avete delle offerte esclusive dedicate solamente diciamo a chi è affiliato quindi se passate dei miei link mi aiutate a supportare questo canale e in più ci guadagnate anche voi dei bonus sto anche guardando altri exchange in questa maniera qua per completa trasparenza vi dico che al primo dicembre sto valutando bit panda perché in europa sembra essere il più compliant di tutti quindi quello che garantisce maggior sicurezza per chi ha maggior regolamentazione con le varie diciamo licenze dei vari stati europei ad oggi però ancora non lo sto utilizzando anche se sembra essere il candidato a prendere il primo posto ripeto sto registrando il primo dicembre probabilmente il 7 8 9 10 dicembre ci sarà già la risposta se l'avrò scelto oppure non l'avrò scelto adesso faccio le mie ricerche guardo un po ma sembra un buon candidato questi però sono i migliori che secondo me hanno senso al momento continuate a seguirmi perché probabilmente potranno cambiare nel giro dei prossimi mesi barra anni quindi per il momento questa è la risposta poi domanda numero 5 visto che marco mi hai detto che gli exchange non sono sicuri per detenerle cripto e che meglio prelevarle dove le detengo allora io ho fatto già un passaggio in più dicendo quali sono i migliori hardware wallet in realtà tantissime persone mi chiedono marco ma non va bene utilizzare trust wallet non va bene utilizzare exodus non va bene utilizzare metamask non va bene utilizzare phantom tutti quei wallet che voi installate sul computer o come estensioni del vostro browser sono meglio di tenere sull'exchange perché almeno sono self custodial cioè voi custodite le chiavi private la differenza fondamentale è se io accedo con un con una mail con un nome utente una password non ho il controllo di quelle cripto se io invece ricevo una seed phrase cioè quelle famose 12 oppure 24 ma in genere sono 12 parole che sono la mia chiave privata in quel caso io detengo le mie valute quindi questa è la discriminante o username e password oppure c'ho 12 parole in base a quello che ho sono o dipendente dall'exchange oppure ho tutto il mio controllo detto questo le applicazioni che installate sul computer o installate sullo smartphone sono sicure ma fino a un certo punto perché il loro problema è di essere degli hot wallet portafogli caldi cosa vuol dire caldi che sono sempre online sono subito pronti quindi se io voglio fare una transazione voglio spenderle cripto voglio muoverle ce l'ho subito lì pronte molto molto comodo ma il fatto di essere sempre online implica anche che è molto più facile attaccare quel wallet e quindi trovare un metodo per rubarmi le cripto all'interno questa cosa è facile no non è facile è possibile sì è possibile a differenza invece di un hardware wallet quindi un dispositivo fisico vi faccio vedere un esempio questo è un beatbox 02 dove ogni volta che io voglio dare l'ok a spostare le cripto devo per forza di cose avere questo dispositivo con me dunque questa cosa è la cosa più sicura per ordini di grandezza non entrerò troppo nel dettaglio troppo nel merito perché altrimenti andremo un po off topic ma questa cosa qua è la più sicura al mondo perché perché è scollegata da internet quindi la chiave privata che contiene all'interno non può mai essere sotto attacco anche un contratto malevolo uno smart contract che mi vuole in modo malevolo rubare le cripto non può interagire perché io non gli do l'ok con il dispositivo quindi questa cosa è la cosa più comoda e sicura del mondo quali sono i migliori a mio parere uno l'avete già visto beatbox 02 nella versione bitcoin only questo perché perché il beatbox 02 è un dispositivo completamente open source cioè si sa esattamente come è stato costruito e qual è il codice all'interno questo vuol dire che è come se fosse costantemente sotto attacco da parte chiamiamoli degli hacker che vogliono rompere questo dispositivo e portarmi via le chiavi private ma se tutto pubblico e nessuno è mai riuscito a romperlo e perché diciamo la sua progettazione è estremamente sicura tanto da poter permettere a tutti di controllare il codice e non trovare un modo per romperlo questo è perché per bitcoin questa è la cosa migliore in più essendo bitcoin only il codice è molto più semplice quindi la possibilità di bug molto inferiore ci sono poi un sacco di integrazioni di cose varie ma lasciamolo lì per quello invece che riguarda le cripto quindi bitcoin discorso a parte beatbox 02 per quello che riguarda le criptovalute generali il mio consiglio è il ledger perché consiglio il ledger perché nonostante non mi piace a livello di privacy sicurezza ha già avuto dei problemi di buchetti insomma non è proprio il massimo massimo è comunque un hardware wallet sicuro cioè non è che dopo domani vi rubano le cripto se utilizzate il ledger ma in più ha il vantaggio di avere una marea di integrazioni con tantissime blockchain in più l'applicazione ledger live vi permette di fare swap di cripto anche utilizzando dei sistemi decentralizzati e quindi devo dire che è veramente molto comoda per comprare vendere cripto al livello diciamo all'interno della defi non dovete utilizzare i sistemi centralizzati e in più avete voi la custodia quindi non mi piace perché è un sistema chiuso dove ci potrebbero essere dei problemi in passato ci sono stati dei problemi non gravissimi ma comunque dei problemi ci sono stati e detto questo ve lo consiglio solo per le cripto qua sotto come sempre trovate il link in affiliazione con il quale non solo mi aiutate a diciamo mantenere questo canale con una piccola ricompensa che non viene tra l'altro nemmeno da soldi vostri perché voi avete invece un bonus quindi risparmiate sul beatbox un 5 per cento mentre sul ledger in genere ci sono degli sconti che vi danno in cashback un certo quantitativo di bitcoin se comprate attraverso il link da affiliato e quindi insomma io ricevo una piccola commissione voi avete un bello sconto e siamo tutti felici trovate qui sotto i link sia per il beatbox che per il ledger poi detto questo passiamo alla domanda numero 6 marco che cosa ne pensi di questa coin che cosa ne pensi di questo token secondo te è buono e male allora innanzitutto marco cosa ne pensi di è la risposta che io vi giuro cioè proprio bandirei dall'albo delle persone che possono respirare il mio stesso ossigeno chi mi chiede marco cosa ne pensi di ovviamente sto scherzando all'inizio normalissimo fare questi pensieri però per farvi capire la gravità della domanda cosa ne penso di innanzitutto chi se ne frega cioè se io pensassi che una cosa è la più bella del mondo e rimane una mia opinione non influisce il mercato non sono un veggente se io mettiamo caso penso che bitcoin vada un miliardo e non è che allora io compro perché marco mi ha detto che bitcoin va un miliardo allora siccome io stimo marco mi piace il suo stile di vita è allora compro bitcoin perché lui mi ha detto che pensa che andrà un miliardo non esiste cioè non funziona così ecco mi chiede warren buffett cosa ne pensi di questa azienda qua e no anzi facciamolo così warren buffett cosa ne pensi di bitcoin e è uno schifo non serve a niente una trappola per topi e poi è il miglior asset del mondo quindi capite bene che anche chiedere a warren buffett sarebbe stato sbagliato figuratevi a me che non sono di certo warren buffett dunque cosa ne pensi di non serve a niente detto questo è sempre un discorso di prospettiva cioè marco ma secondo te faccio bene a comprare xy faccio bene rispetto a cosa a non comprare niente a detenere i tuoi soldi in banca a investire su qualcos'altro andarti a mangiare una pizza o andare a spendere quei soldi per fare un evento conoscere persone creare un network migliorare il tuo lavoro cioè non esiste un faccio bene faccio male cosa mi consigli le criptovalute ragazzi sono un qualsiasi asset finanziario soprattutto quando mi chiedete cosa ne pensi di e c'è un qualsiasi token in giro la mia risposta è io a livello di investimento do solo diciamo adito do solo senso a bitcoin nel lungo periodo perché perché la cosa meno rischiosa è la cosa più sicura e benché bitcoin non sia più un metodo per diventare ricchi cioè cancellatevi dalla dalla mente la possibilità di arricchirvi con bitcoin non si può fare cioè anche che bitcoin facesse un 10 per e andasse a un milione di dollari abbiamo fatto un 10 per che voglio dire o avevo già 100 mila euro da investire in bitcoin e allora mi può forse cambiare la vita ma se io metto anche mettiamo 10 mila euro su bitcoin e arrivo a 100 mila perché bitcoin fa un 10 per e va un milione ma prima di tutto quanto ci vuole per bitcoin arriva là di un milione che benché io sia iper rialzista ci vuole comunque il suo tempo secondo non è che poi 100 mila euro mi hanno cambiato la vita certo mi fan comodo mi sono anche preso un rischio indifferente di conseguenza con bitcoin ormai non divento più ricco soprattutto se penso di investire cifre come centinaia di euro quindi marco non ha senso devo andare sulle altre no 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 questo messaggio ancora più sbagliato però sulle altre cripto dove la capitalizzazione è molto più bassa allora posso fare della speculazione che mi che mi potrebbe dare dei rendimenti più elevati ma questa speculazione per me che io la faccia su ripple solana pomodori tabacco ciabatte telecomandi metalli prezzi qualsiasi cosa per me non cambia soltissimamente nulla sono asset speculativi non me ne frega niente di cosa c'è sotto perché non voglio fare un investimento di lungo periodo voglio semplicemente sfruttare la fomo l'avidità o la paura che c'è in determinati asset per guadagnare sulla variazione di prezzo cioè ad esempio in un grafico così quello di ripple benché a me di ripple non me ne freghi una mazza investo molto volentieri in ripple quando siamo magari a questi livelli perché qua sento che nel mercato c'è hype quindi c'è c'è voglia di comprare tutti la vogliono o l'esempio più eclatante con le meme coin le meme coin doge coin shiba pepe brett bonk pinot che più ne ha più ne metta non servono dichiaratamente a nulla eppure si può guadagnare con quelle criptovalute perché perché c'è qualcuno che è disposto a comprarle dopo di noi perché perché arriva dopo perché non è ben informato perché non sa bene quello che sta facendo e quindi io posso comprare prima queste valute qua con la visione con la mia ipotesi che arriverà qualcuno che la vorrà comprare ancora dopo di me il prezzo salirà e io la venderò a chi se la vuole comprare dopo io me ne esco con il profitto e quello rimane con la meme coin in mano poi se continuo a salire magari guadagnerà anche lui io intanto sono uscito e tanti saluti di conseguenza cosa ne penso di questa coin non ne penso niente di qualsiasi coin voi mi parliate io non ne penso niente ne penso che se c'è un forte trend quindi vedo il grafico faccio un'analisi grafica mi piace mi interessa potrei anche farci della speculazione sopra ma il pensiero generale è che non mi piace niente che non sia bitcoin per il lungo periodo mi va bene solamente in un'ottica speculativa e la speculazione va saputa fare si dice così cioè devo sapere bene come utilizzare una strategia come utilizzare un take profit come utilizzare uno stop loss fare la mia analisi quindi per tornare all'inizio di questo video se io so quello che sto facendo speculerò su queste coin se io non so quello che devo fare e ho bisogno di chiedere poso tutto torno a studiare e poi opero ci tengo a sottolineare prima di passare alla prossima domanda che questa è una mia visione personale se voi chiedete ad altre persone 99,99 per cento vi dirà no marco non capisce niente non esiste solo bitcoin anche ripple ha senso anche solana ha senso anche tirium ha senso e io sono d'accordissimo e una visione soggettiva e personale per me bitcoin ha senso come investimento di lungo le criptovalute sono solo una mera speculazione di breve periodo non ci investirei per un arco temporale superiore a qualche anno poi se mi chiedete perché ma ci sono dei dati marco che ti danno ragione oppure no aprite voi stessi grafici guardate adesso ripple è una delle pochissime che si salva ma anche su ripple siamo comunque lontani dei massimi precedenti cardano siamo anni luce dei massimi precedenti nio anni luce dei massimi precedenti litecoin anni luce poligon anni luce solana siamo ora sui massimi precedenti eterium anche qua siamo lontani algorand non ne parliamo dogecoin siamo lontani cro siamo lontani cioè capite che non è che io mi faccio poi un'idea così totalmente personale basata così su una mia convinzione da massima lista ma i grafici stessi mi dicono guarda che queste cripto hanno perso il 99 per cento del loro valore e adesso tutti dicono guarda come salgono ma in realtà sono ancora se va bene a un meno 80 per cento quindi sono veramente rarissimi i casi e ne è una dimostrazione il fatto che quasi esclusivamente solana i massimi precedenti l'unica tutte le altre ancora devono recuperare magari lo faranno ma capite bene che mentre bitcoin fa nuovi massimi assoluti le altre nemmeno riescono a recuperare il loro valore quindi capite bene perché bisogna fare estrema attenzione e per me non ha senso investirci nel lungo periodo ok andiamo alla domanda numero 7 visto che abbiamo parlato di criptovalute di speculazione e di criptovalute che non sono bitcoin quindi altcoin che poi in gergo a noi piace chiamarle shitcoin e quindi marco quando è il momento di investire in queste altcoin perché tu mi hai detto che probabilmente c'è un periodo in cui ha senso specularci e crescono di più ed effettivamente c'è cioè con bitcoin vi ho detto non è più il momento per diventare ricchi mentre con le criptovalute si possono fare performance molto più grandi e allora quando arriva questa al siso perché il mio amico mi ha detto che arriverà ad aprile l'altro mi ha detto che arriverà a fine dicembre un altro mi ha detto che tra febbraio e marzo ci sarà allora tutti quelli che vi danno delle date e delle previsioni certe sono dei fuffaguru delle persone che vi prendono in giro o persone che insomma gli piace così parlare un po' a vanvera non esiste niente nessuno che può prevederlo i mercati si vivono nel presente non si vivono nel ah no ma è sempre andata così adesso andrà di nuovo così non funziona perché se domani qualcuno fa un altro attettato a trump e magari gli riesce noi vediamo tutto crollare e tutte le nostre previsioni di al siso né tanti saluti domani la guerra si intensifica succede qualcos'altro domani esce una nuova legge succede qualcos'altro insomma non possiamo sapere minimamente come cambia il mondo e non è nemmeno nostro scopo prevederlo per prevedere i mercati noi dobbiamo adattarci ai mercati detto questo per quello che riguarda l'alt season c'è un grafico molto importante da andare a guardare questo grafico è il famoso grafico della bitcoin dominance più la dominance di usdt e usdc quindi di bitcoin più le stable coin che ci dice una cosa molto molto chiara interessante ad esempio in questo momento noi vediamo che la stiamo anche vedendo in un momento particolare perché quando questo grafico sale significa che bitcoin e le stable coin adesso vi spiego perché ho messo anche le stable insieme stanno prendendo la maggior parte dei soldi del settore se dunque questo grafico sale significa che la maggior parte dei soldi sta finendo su bitcoin e sulle stable coin e quindi se ne sta andando dalle alt coin se noi vogliamo mettere a confronto bitcoin contro alt coin abbiamo bisogno appunto di creare questi due compartimenti se bitcoin sta prendendo più soldi li sta togliendo dal mercato delle alt coin ok e viceversa cioè quando questo grafico scende quindi la dominance come vedete in questo momento sta andando verso il basso in quest'ultimo periodo è chiaro no vedete che in quest'ultimo periodo si sta perdendo un po di dominance significa che i capitali si stanno spostando da bitcoin e dalle stable verso le alt coin ora questo è il discorso generale adesso andiamo un po più nello specifico prima di tutto perché ho messo anche le stable coin insieme alla dominance di bitcoin perché io voglio escludere le alt coin dall'equazione quindi ho bisogno di avere il mercato delle alt coin da solo e visto che il mercato delle stable come usdt usdc pesa tantissimo allora me lo scorporo e io dico alt coin contro il resto del mercato e il resto del mercato cos'è bitcoin più stable ora ci sono due considerazioni da fare perché io posso vedere questa dominance ad esempio in questo caso posso vederla scendere quindi posso vedere un mercato delle alt coin che va meglio di bitcoin in questo caso se io ho una discesa ma può andare meglio per due motivi o perché le alt coin stanno performando di più di bitcoin o perché stanno perdendo di meno dunque cosa consiglio sempre di fare è di aggiungere a questo grafico qua della dominance il grafico della total market cap ok perché questo grafico mi dice se in generale il diciamo i soldi all'interno del comparto cripto stanno aumentando o diminuendo allora volevo nascondervi questo grafico eccolo qua se io ho questo grafico ripeto della total market cap che sale vuol dire che stanno entrando soldi e se entrano soldi ma nel frattempo la dominance scende significa che questi soldi stanno entrando sulle alt coin piuttosto che su bitcoin e sulle stable ok dunque quando arriverà l'alt season e quanto durerà non possiamo saperlo prima ma finché questi grafici faranno queste cose cioè il grafico della total market cap continuerà a salire e il grafico della dominance continuerà a scendere più questo grafico si aprirà quindi questa forbice sarà aperta più converrà fare speculazione sulle alt rispetto a detenere bitcoin ok poi come ho detto anche all'inizio non ha senso vendere bitcoin per comprare le alt coin e poi ritornare su bitcoin perché io non so se effettivamente poi le alt coin continueranno a performare bene se bitcoin smetterà di crescere e tutto quello che ne consegue cosa conviene fare conviene tenersi comunque i bitcoin spot nel proprio hardware wallet e utilizzare la speculazione magari anche in leva sulle criptovalute per speculare nel breve periodo ok ok andiamo avanti quindi marco non arriva senza quanto dura migliori applicazioni per comprare bitcoin e le criptovalute senza kyc allora per quello che riguarda le cripto penso sia un po più complicato è un po più difficile perché ovviamente il mercato è molto più piccolo quindi lì non vi so dare delle indicazioni molto chiare ma per quello che riguarda bitcoin le migliori applicazioni per comprare non kyc cioè senza dare i nostri dati sono quelle che vengono chiamate peer to peer cioè piattaforme dove c'è uno scambio tra privati vi faccio anche i nomi le migliori piattaforme sono se io voglio comprare bitcoin on chain la famosa odl odl quindi questa piattaforma qua la famosa pitch bitcoin che questa applicazione qua mentre se io voglio comprare su rete lightning network robo sats che invece è questa piattaforma che adesso vediamo eccola qua che mi apre e c'è questa piattaforma qua marco ma io non so la differenza tra un chain e lightning network marco ma io non so bene che come come funzionano queste cose peer to peer come si utilizzano perché costa così tanto comprare ma come si fa quali metodo di pagamento utilizzo eccetera 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 ma anche tutte le risposte alle domande precedenti ma quindi come si fa a speculare ma come creo la strategia ma come faccio a qualsiasi domanda di questo livello quindi più approfondita e specifica su un qualcosa che vi serve io vi ricordo che a brevissimo aprirò una mia accademia questa accademia che cosa sarà banalmente un videocorso in costante aggiornamento quindi collezioni sempre nuove sempre fresche dove insieme andremo a fare unboxing recensione ed utilizzo di un hardware wallet come si installa un nodo bitcoin come si utilizza un miner come compro su odl odl con un tutorial passo passo insomma faremo faremo farò questa accademia dove tutti insieme studieremo giorno per giorno ci sarà molto probabilmente ogni settimana una nuova lezione minimo cercherò di farne di più ma minimo sarà una settimana di lezioni dove spiego tutto 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 quello che c'è da sapere sul mondo di trading investimenti privacy anonimato eccetera 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 come fare per partecipare all'accademia ancora non si può perché la sto ancora strutturando voglio farla come si deve non ho fretta di lanciarla dunque io vi consiglio di iscrivervi a questo canale perché sicuramente quando la lancerò lascerò poi un'offerta per i primi 100 utenti che vogliono entrare dunque iscrivetevi così ricevete la notifica non appena metterò il post qua nella community di youtube metterò il post sul mio canale con l'apertura alle iscrizioni non so se farò prevendite farò del genere ancora non ne ho idea oggi primo dicembre sto ancora strutturando il tutto quindi vi consiglio di registrarvi al canale iscrivervi tanto è gratuito non costa niente e così non appena farò qualcosa sarete primi a saperlo in realtà il metodo ancora migliore oltre ad iscrivervi è quello di entrare su telegram ve lo ripeto questo è il canale ufficiale lo trovate qua come marco costanza siamo questi qua non cadete in canali scam in canali truffa l'unico reale è questo al momento c'è il mio faccione finché quelli scam non copieranno anche le mie immagini profilo ma questo sono io il link è questo qua lo trovate qua sotto nella descrizione del video e così non vi potete sbagliare ok mamma mia lungo come e quando si pagano le tasse allora sulle criptovalute io continuo a ripetervi che purtroppo in italia non c'è una legislazione completa e seria perché benché sia ormai ampiamente assodato e lo sanno anche i muri che se io converto in euro o spendo direttamente criptovalute quello è un cash out cioè qualsiasi cosa che mi arriva come bonifico alla mia banca oppure faccio un acquisto con delle criptovalute quello è un cash out se supera i 2000 euro dovrò pagarci le tasse saranno al 26 al 12 e mezzo al 42 questo dipende poi dall'italia cosa decide di fare ancora non si è capito lo decideranno ma indipendentemente da quello che sarà la percentuale devo pagare le tasse su tutti i guadagni che superano i 2000 euro cioè se io ci ho messo 10.000 e tiro fuori 15.000 su quei 5.000 di profitto io tolgo i 2000 diciamo così di franchigia o 3000 euro di plus valenza pura sul quale pagare le tasse ok ora questo è un discorso generale da qui tutti che iniziano a chiedermi ma quindi posso comprare pax gold ma quindi posso comprare dai ma quindi posso comprare usdt non sono tassabili come funziona ragazzi ad oggi e libera interpretazione di ogni commercialista al quale vi affidate scegliere se considerare questi eventi tassabili oppure no la legge italiana non è chiara non ha specificato se usdt se dai se pax gold se tether gold se chi che sia è un evento tassabile oppure no per ora l'unica cosa certa è che è tassabile quando tornate in euro o convertite per prodotti o servizi ma finito questo sulle altre cose ancora non è chiaro sembra sicuramente chiaro ed assodato il fatto che se scambio tra cripto che non sono stable coin non ci dovrebbe essere evento tassabile però ripeto dovete affidarvi ad un commercialista ci sono due servizi in italia che fanno questo lavoro il primo è tatax ve lo faccio vedere qua e il secondo è cripto books eccolo qua questo cosa cambia tra i due servizi allora sono molto simili hanno però un sistema di pagamento che uno va in base al capitale che state che volete dichiarare l'altro è in base al numero di transazioni che che avete fatto la cosa bella è che voi potete provare questi programmi totalmente in maniera gratuita li utilizzate e solo nel momento in cui avete bisogno del loro report quindi di scaricare il documento o di chiedere informazioni una consulenza ai loro commercialisti pagate il servizio quindi provateli come sempre qua sotto trovate il link per ricevere uno sconto banalmente se il link vedete che appunto il link normale con il codice costanza avete sempre degli sconti sugli abbonamenti a queste piattaforme vi scrivete le provate a gratis se poi vi servono vi piacciono le trovate comode utile eccetera eccetera pagate poi il servizio per farvi dare effettivamente il documento con il quale dichiarare ma potete utilizzarle gratuitamente vedere se vi prendono le transazioni come si collegano gli exchange eccetera 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 mancano nove minuti all'ora e noi siamo arrivati alla decima e ultima domanda che in realtà devo essere sincero ho quasi inserito io di mia spontanea volontà senza ricevere così tante domande di questo tipo perché sembra assurdo ma ogni volta la cosa più importante è quella di cui tutti se ne fregano perché tutti vogliono fare i guadagni in modo veloce perché tutti non vogliono perdere tempo vogliono l'occasione mentre di studiare passare tempo e pensare che magari per lavorare in questa cosa serva dedicare tempo e anche denaro in un qual senso perché io posso comprare corsi libri eccetera eccetera no no è una cosa assurda mai già mai allora quali sono i migliori metodi libri eccetera eccetera per studiare ovviamente non posso che non consigliarvi il mio canale prima di tutto perché l'ho scritto anche qua sulla home page del nostro canale youtube ragazzi ogni martedì e giovedì dalle 18 e 30 alle 21 e 30 siamo in live tre ore di live ogni settimana due volte a settimana avete sei ore iper gratuite ed accessibili a chiunque perché c'è anche la registrazione per poter studiare questo settore entrate in live fate qualsiasi domanda che voi volete io rispondo sempre a tutti in maniera completa ovviamente ci deve essere il tempo se non ci sono troppe domande ma rispondo sempre a tutti e vi studiate tutto quello che c'è da sapere ci vorrà un mese prima di vedere tutto ma forse anche di più ci vogliono anni per vedere tutto ma dopo qualche mese già avete idea molto bene di quello che si può fare perché vedete proprio me in tempo reale operare fare le cose commentare le notizie quindi avete almeno un riferimento una base di partenza da quale partire poi non sono il messia sicuramente non dovete seguire solo me ci sono tanti altri miei colleghi molto in gamba banalmente il più famoso decrypto gateway luca boiardi ve lo straconsiglio è sicuramente il numero uno in questo settore seguite questi canali formazione gratuita gratis quindi non vi lamentate non potete dire però devo sempre pagare per studiare non è vero e si può far tutto gratis se poi volete una roba che vi dà un boost che vi accelera l'apprendimento non appena rilascerò l'accademia lì troverete cose un po più specifiche un po più tecniche e soprattutto se siete novizi trovate tutto ben sequenziato e pianificato perché ad oggi ho parlato di qualsiasi cosa che serve in questo mercato il problema è trovare i vari video che sono sparsi su youtube in maniera un po sparsa e quindi diciamo nell'accademia riesco a dargli molto più ordine e facilità di lettura e in più posso rispondere alle domande insomma tolto questo però è pieno di live e contenuti gratuiti tolti contenuti su youtube ovviamente ricerche google quelle funzionano sempre quindi lettura di articoli soprattutto anche su x c'è tanta roba come libri cosa vi consiglio mastering bitcoin the bitcoin standard anche il libro di luca boiardi che mi pare si chiami investire in criptovalute si si dovrebbe chiamare investire in bitcoin in criptovalute anche il suo libro è molto buono villaggio bitcoin e questi qua sono i principali comprate questi libri e già imparate un mare di cose ma ce ne avete già per mesi da leggere quindi leggete quei libri guardate questi canali ed il gioco è fatto allora vedo qui che siamo arrivati a 55 minuti il mio obiettivo era di farlo durare al massimo un'ora questo video direi che il task è stato rispettato e mantenuto ora ogni volta che dovrò condividere marco ma cosa ne pensi dico eh linkerò questo video e tanto so che no no ma io non ho bisogno di guardare quel video basta che me lo dici qua in cia dio già lo so che arriveranno queste queste domande quindi questo video potrebbe essere totalmente inutile però noi ci abbiamo provato vediamo grazie mille per l'ascolto grazie mille a tutti quelli che hanno lasciato un like scrivetemi qua sotto se avete altre domande perché le andrò ad inserire come vi ho già anticipato nel canale telegram quindi fate la domanda qua sotto nei commenti io la recupero la butto su telegram e così rimarrà disponibile a tutti e per sempre all'interno di all'interno di quel canale grazie mille buona continuazione noi ci vediamo martedì e giovedì dalle 18 e 30 alle 21 e 30 sempre in live in realtà anche lunedì e mercoledì ma siamo su tiktok e instagram quindi è inutile che ve lo dico qua se mi seguite su tiktok e instagram alle 6 e mezza lunedì e mercoledì mi trovate in live buona giornata e a presto ciao